Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 3 aprile del 2020. Vi ricordo a tutti quanti che lunedì sera ritornerò con Quarta Repubblica, perciò i tantissimi numerosi che mi hanno seguito qua sulla Zuppa di Porro mi troveranno anche in televisione, anche se parolacce, gergo, sarà un po' diverso rispetto a quello che uso fare qua nella Zuppa di Porro. Come tutti voi sapete, sia su Instagram sia su Facebook. Quali sono le notizie della giornata? Lombardia lasciati soli. Questo è il titolo del Corriere della Sera, ma è anche in realtà il titolo più interessante di oggi, perché la giornata di oggi da che cosa vede? Vede che una regione sotto attacco. E il pezzo forse più interessante per capire come la Lombardia sia sotto attacco, non già per il virus, non già per essere il focolaio di questa epidemia, non già perché le sue città hanno più morti di tutte quante le altre città d'Italia e probabilmente d'Europa messe insieme, non per questo. Cioè la Lombardia più morti della Spagna, per intendersi in questo momento, o quasi. Beh, la cosa incredibile è quello che scrive Giorgio Gandola oggi sulla verità. Dopo, ed ha una sua lettura secondo me interessante, dopo che hanno realizzato l'ospedale in fiera, va bene, ospedale in fiera che vi ricordo non voleva la protezione civile, diceva che non era possibile, anche alcuni minanensi dell'establishment non ci credevano, tutti sostenevano che fosse una follia. Stiamo parlando dell'ospedale fatto da Bertolaso, definito Bertoleso, da Travaglio, si è stato fatto da Bertolaso, che quando è stato curato da Sarrafele perché si è preso il coronavirus, Travaglio e tutti gli amichetti, Travaglio vuol dire Conto, ovviamente, Casalino e Conte, beh, insomma, hanno detto, doveva costruire posti letto, ne ha occupato uno. Secondo voi questa è una frase che dovete ricordarvi, uno che riesce a dire di una persona che va in ospedale, doveva costruire posti letto e ne ha occupato uno. Una cosa disgustosa, come è ovviamente la prosa di Travaglio in questi casi. Comunque sia, dice Gandora, dopo che hanno fatto l'ospedale e hanno dimostrato di riuscire a fare l'ospedale in Lombardia, c'è stato un attacco concentrico, quello di Conte, che ha capito che lì riescono a fare cose, che l'imbarazzante situazione di protezione civile ed arcuri, che neanche ve lo sto a dire, dalle mascherine, dispositivi, non sono riusciti a combinare nulla. E poi dopo ci si è attaccato ovviamente la stampa oggi unica del giornale, unico del virus, Corriere, Repubblica e Fatto Quotidiano, e la stampa ovviamente. E poi questa cosa piuttosto imbarazzante, veramente incredibile, dei sindaci del PD. E su quello interviene giustamente Sallusti sul giornale, perché i sindaci del PD della Lombardia si mettono a scrivere una lettera a Fontana per dire che alcune cose non funzionano. Questi ci hanno veramente... Io non li conosco, forse li conosco soltanto Gori. Io mi stupisco proprio di Gori, perché siccome Gori è una persona per bene e ha quell'aria... Oggi me la sto prendendo in questa settimana un po' con i sindaci, però devo dire che io mi stupisco davvero. Ieri mi la sono presa col sindaco di Enne, l'altro giorno me la sono presa con De Caro. Oggi però con Gori me la devo prendere, perché... Ma che senso ha scrivere una lettera a Fontana, caro Gori? Toc, toc! Gori, tu non eri quello che minimizzava tutto quanto all'inizio di marzo. E a me va benissimo che tu minimizzassi. E forse io, pensate un po' voi, vorrei riaprire oggi. Io la penso come te, come Sala, cioè che bisogna riprendere il prima possibile. Però mi chiedo una cosa. Ma con quale faccia da culo? Ma lo dico affettuosamente nei confronti di sindaci che io stimo. Ma con quale faccia da culo vi mettete a rompere le scatole a Fontana? Ma io, veramente, siete tutti quanti impazziti. Con la protezione civile che fa acqua da tutte le parti. Con Arcuri che fa acqua da tutte le parti. Con Conte che non pensa altro che fare una conferenza stampa al giorno per raccontare senza neanche chiedere scusa degli errori che commettono in quinta un'azione. Con i vostri cittadini che ieri erano sul portale dell'Inps fottuti da un'Italia incapace e burocratica centralistica voi rompete le palle a Fontana. Io dico, Gori, ma tu che sei il meno politico di questi, pensavo, pensavo. Ma come ti viene in mente? Ma lo dice anche Sallusti. Dice che è molto meglio lo spettacolo che hanno dato le regioni con tutti gli errori che tutti quanti hanno fatto. Le regioni avranno fatto i loro errori. Il Veneto meno, il Veneto di più. Qualcuno ha preso una strategia. L'altra diversa. Insomma, ragazzi, è veramente incredibile il fatto che i sindaci se la prendono proprio con l'obiettivo più sbagliato del mondo. Però magari mi sbaglio io. E hanno ragione i sindaci Gori, come si chiamano, De Caro di Brescia e si è accodato pure Sala. Questi sindaci fantastici, straordinari, che ce l'hanno con Fontana e quindi sono d'accordo esattamente con il titolo del fatto di oggi. Il titolo del fatto di oggi. Capito? Gori, tu sei d'accordo col titolo del fatto di oggi? Pensaci bene! Perché quando stai col fatto di oggi, Gori, così come ci sei stato oggi, domani ricordati che cos'è l'alleato fatto quotidiano, travaglio, quel giro là. Del barone anche me ne frega niente. Ma insomma, Gori e Sala, pensate cosa vuol dire stare d'accordo col fatto ritardi, forniture e zona rossa. Tutte minchiate, perché anche sulla questione della zona rossa è tutta una stupidaggine, perché la Lombardia la voleva la zona rossa e Roma frenava. Secondo me, voglio dire, lì neanche da far l'accuso allo Stato centrale, semplicemente opinioni diverse. Ma comunque, insomma, su questa cosa io direi che stenderei un velo pietoso, se non che ho letto, ed è straordinario, il pezzo oggi di Veneziani. E vi consiglio tutti quanti di leggerlo, perché Veneziani dice, io mi ero dato l'obiettivo di non parlare di Conte, perché ci si stringe a corte nel momento delle grandi difficoltà. Questo dice Marcello Veneziani. Però, poi dopo, quando ho sentito che lui stava all'interno della storia, perché dice in una delle ultime conferenze stampe, ci sentiamo all'interno della storia, ma aveva già detto poche settimane fa che si sentiva Winston Churchill, vorrei segnalare all'amico Veneziani. Quindi tra storia Winston Churchill, questo ha completamente perso la brocca da tempo. Beh, insomma, tra l'altro, voglio dire, l'altro giorno l'ho visto in un'intervista, non so con chi, e il giornalista gli chiedeva. Questo è il tipo di giornalismo del fatto con Conte. Sentite questa domanda. La domanda è la seguente. Presidente, le faccio questa domanda, ma se non mi risponde, sono io che sbaglio a farle la domanda. Ma è una roba fantastica! Questi sono i giornalisti a schiena dritta del fatto! Veneziani dice, giustamente, oggi, in un pezzo favoloso, è come la lumachella di Trilussa. Ed è questa storia di Trilussa fantastica, per cui la lumachella sale, la lumaca sale sopra l'obelisco che rappresenta la storia di Roma, dell'impero, della vittoria contro gli Egizi. Insomma, racconta la grandeur romana, sale questa lumachella, e la lumachella sull'obelisco dice, e già capisco che lascerò un'impronta nella storia. Ecco, Conte è come la lumachella di Trilussa. Io devo dire che è un genio! È un genio, veneziani, perché l'idea della bava, non solo della lumaca, di tutti quanti nei confronti di Conte, è straordinaria. Lenzi, nel frattempo, continua la sua battaglia sul tempo, ma siano Lenzi, perché ormai questa stampa unica di regime, per cui non si tocca il manovratore, è imbarezzante, perché quando tu prendi tutte le televisioni d'Italia, e spero lunedì di essere un po' critico, lasciatemelo fare, nei limiti del possibile, ovviamente, nel frattempo aiuti alle imprese, il sole 24 ore ci dice, nuovo rinvio del versamento, delle ritenute e dell'IVA, fino a 10 milioni di tutte le aziende, ma devono dimostrare di avere un calo del 25-30%, ci sta pure, se non è un calo, è chiaro che non puoi rinviare gli obiti fiscali. Stop ai pignoramenti, rinvio, e questa è una cosa sacrosanta, del codice delle crisi, che è una roba burocratica di merda, che metterà nella palta tutte le piccole aziende italiane, questo codice della crisi è una follia, cioè sostanzialmente si deve nominare a una persona in azienda che deve andare dal magistrato quando sente odore di crisi nell'azienda. Avete capito voi che follia che si sono inventati questi pazzi, che non hanno fatto nulla nella vita e che oggi sperano di fare i politici e lo fanno, capito, con le leggi, il codice della crisi, stronzate, per fortuna che lo rinviano, l'unica cosa buona che ha fatto questo virus. Ma mentre c'è tutto questo pacchetto che ci racconta il sole, la stampa di oggi ci racconta che questo pacchetto slitta, che è slittato il Consiglio dei Ministri, perché è slittato il Consiglio dei Ministri? Perché secondo un retroscena della stampa non sarebbero d'accordo i tecnici del Tesoro per l'enorme debito che si farebbe per queste manovre e quindi ci sarebbe un dibattito tra Conte e Palazzo Chigi e i tecnici di cui vi ho parlato. C'è una lettera, la cosa più bella ve la tengo per dopo, ah no, l'Inps, l'Inps, il caos dell'Inps è fantastico, perché Bianconi sul Corriere della Sera ci spiega che non è colpa degli hacker, nessuno di noi ci aveva creduto. Toc toc! Bianconi, Corriere della Sera! Guardate che ieri Già Repubblica diceva che era tutta una manfrina, questa roba degli hacker. Ieri, siccome non vi siete accorti della vicenda Inps e non avete capito che la vicenda Inps è uno scandalo, è uno scandalo gigantesco, oggi c'è il rimedio, Bianconi non è colpa degli hacker, ma veramente qualcuno aveva pensato agli hacker. Nel frattempo, il pezzo migliore di oggi sull'Inps, perché adesso sono tutte favole, è quello di Alessandro Darold, perché Alessandro Darold si è andato a spulciare i bilanci dell'Inps. Sentite bene, sentite bene i bilanci dell'Inps. Sapete quanto spendono secondo i bilanci dell'Inps per i servizi di trasmissione dati? C'è l'upload, il download delle informazioni, cioè esattamente quello che è saltato ieri. Dite una cifra. Sapete quanto spende l'Inps? 43 milioni! Altro che Porno Hub che gli ha prestato i suoi server. 43 milioni di costi. Poi dite, beh, 43 milioni sono tanti. No! Non basta! Perché Darold che cosa trova nel bilancio dell'Inps? Che è, non scusatemi, 51 milioni, ho scritto male, 51 milioni le spese per i servizi di trasmissione dati. 51 milioni! E a questi 51 milioni se ne sommano 43, quelli che vi scettavo prima, 51 per le spese di trasmissione dati, 43 per l'acquisto di servizi specialistici a supporto del sito. 94, scusatemi, 94 milioni per il sito, overall costa 500 milioni, ma solo per il sito 94 milioni! E quando il direttore generale De Micheli non chiede neanche scusa, e quando Conte non chiede neanche scusa, e quando Tridico non chiede neanche scusa, e quando tutti e tre dicono che è colpa degli hacker, dicono una bugia. Per cui, tutti e tre dovrebbero mettersi in ginocchio davanti ai milioni di italiani che non hanno potuto utilizzare un servizio pubblico che strapagano! E quando il direttore generale dice è colpa dei tagli, al direttore generale bisogna mettere qua in faccia, in faccia, toc toc! Il pezzo di questo nostro giornalista e il suo bilancio in cui si vede che le spese per il sito sono aumentate del 50% rispetto al 2017. Hanno speso di più e fanno cagare di più! E dice qualcuno oggi sui giornali che il casino si riproporrà anche nei prossimi giorni quando si arriverà nella cassa integrazione il 15 aprile. Però ovviamente non si può criticare, nessuno deve chiedere scusa, nessuno deve essere licenziato, in un mondo normale si mandano a calcio nel sedere via da queste aziende quelli che hanno sbagliato, non nell'Inps italiano. Ma secondo me forse sono io che sono un fascistello. Aiuti da parte dell'Europa, qua c'è una risposta di oggi di Conte su Repubblica alla lettera di Ursula ieri su Repubblica alla quale dice cara Ursula ho apprezzato il sentimento di vicinanza. Allora caro avvocato di Foggia e io ti voglio molto bene, qualcuno si secca perché non è esattamente di Foggia, io sono ancora di quell'idea ma questo forse sbaglio perché ovviamente io sono un tale cafone che non riesco a capire queste cose cafone nel senso etimologico del termine coltivatore della terra diciamo beh insomma io penso che quando su un giornale cara Ursula è anche questo figlio del narcisismo egocentrico di uno che arriva da Foggia se tu parli col presidente della Commissione Europea cara presidente se gli vuoi dare proprio del tu ma cara Ursula ma chi è? Tua sorella Ursula che fino all'altro giorno stava in uno sgabuzzino pagato da Alpa cara Ursula ma si scrive così detto questo e a parte la forma una cosa interessante Conte la dice su 150 riga che gli scrive qualche consigliere una riga buona c'è quando dice che sta guardando dice Conte i piani che fate per l'Eurogruppo che si terrà martedì cioè il rinvio agli Eurobond che dovevano decidere questi tecnici cosa che Prodi ridicolizza il fatto che siano dei tecnici a decidere e non dei politici e dice ma non mi piace quello che state facendo quindi Conte risponde con il garbo ma dicendo a Ursula che questa cosa non gli piace D'Alema intervistato da Cappellini scopre su Repubblica che la Merkel si fa gli affari suoi bello il pezzo di Magnaschi che racconta oggi su Teleoggi tutti i rapporti della prima guerra mondiale in poi tra Francia e Germania che sono rapporti complessi rapporti per cui la Francia a un certo punto ha costruito l'Europa a sua immagine e somiglianza e l'intelligenza diciamo tattica dei tedeschi di aver conquistato l'Europa a danno dei francesi questo lo trovate su Italia oggi il fondo di Magnaschi Dombrowski vi ricordate il falco che ce l'aveva contro l'Italia di Salvini oggi a Repubblica apre sui Corona Bond l'idea di chiamarli così è incredibile l'ultima cosa che vi segnalo è forse quella che si lega la prima cioè all'Italia che non può criticare il Presidente del Consiglio Conte e questo governo perché dovete sapere che Sergio Rizzo insieme a come si chiama a Stella quell'uomo che ha scritto la casta dal Corriere passato a Repubblica come vice direttore è considerato uno dei grandi giornalisti di inchiesta italiana è uno di quelli fissati con la casta oggi scova in un pezzo una cosa interessante una cosa di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse cioè che il Ministero dell'Innovazione dopo due mesi dall'inizio della crisi si pensa di fare otto commissioni un gruppo di lavoro e otto sottogruppi con 76 persone per trovare per scoprire l'acqua calda ma non è questo nelle prime dieci righe del pezzo Sergio Rizzo ci parla della Presidentessa della Task Force Sanitaria va bene la Presidentessa della Task Force Sanitaria sapete chi è? è una signora che si chiama Forenza ed è dice Rizzo io non so nulla leggo il pezzo di Rizzo è è una esperta di chirurgia estetica e di psicologia clinica e di diabetologia cioè non c'entra nulla con il covid va bene? non c'entra nulla l'esperta e chirurga esperta diciamo chirurga estetica è presidente di questa Task Force che prende 7000 euro e 100 euro ogni chiamata notturna fantastico bene ma dice Rizzo una cosa toc toc che nessuno ha scritto e cioè che questa signora sapete chi è questa Forenza? era una candidata del Movimento 5 Stelle trombata in un municipio romano cioè noi abbiamo il Ministro che è un ex assessore dell'Appendino che è all'innovazione poi abbiamo l'esperta della Task Force che è una trombata del Movimento 5 Stelle allora io chiedo a tutti quanti voi tutti quanti voi come mai il pezzo di Sergio Rizzo quello che fece la casta il cui ha la prima pagina di Repubblica che scrive sempre delle cose tenute nella giusta considerazione non fa salto per il titolo oltre che per la bontà dei suoi pezzi bene oggi lo trovo a pagina 13 13 di taglio basso di Repubblica e non è neanche richiamata in prima pagina secondo voi come mai? perché il manovratore non sbaglia mai e se le consulenze vengono date i trombati del Movimento 5 Stelle zitti e muti ma io su questa cosa di forenza voglio andare avanti un saluto a tutti quanti voi ciao 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 ciao